È bello, è bello andare a commentare una vittoria di Dario Cataldo, è davvero bello perché comunque una vita da gregario quella di Dario Cataldo, una vita agli ordini della squadra. Anche l'altro giorno, comunque nella tappa di Pinerolo, aveva una grande occasione per vincerla, la Stana l'ha fatto fermare per lavorare per Miguel Angel Lopez, lui che non credeva più forse di vincere una tappa al Giro d'Italia, ecco oggi, che bella favola, che bella favola. Cataldo vince su Matteo Cattaneo in fuga ed è una bella storia quella di Cataldo, perché una vita sempre agli ordini dell'ammiraglio, una vita sempre da gregario, oggi che ha avuto carta bianca l'ha sfruttata alla grande. Quindi onore, onore a Dario Cataldo, che forse a 34 anni, dopo quella possibilità dell'altro giorno, non avrebbe mai immaginato di rivincere una tappa al Giro d'Italia e invece oggi ci fa piacere commentare una sua vittoria, perché peraltro l'altro giorno l'ho ascoltata al processo della tappa, una persona disponibile, una persona insomma comunque pacata, una persona obbediente anche a tutti gli ordini, che fa squadra, una persona che fa morale. Quindi insomma, davvero, sono molto molto contento della vittoria di Cataldo. Ma passiamo forse anche alle cose più importanti, ossia a Vincenzo Nibali, che grazie all'attacco, alla fine del Civiglio, è una grande discesa. Vincenzo Nibali guadagna su Primoz Roglic, che casca in discesa, però ragazzi, da non sottovalutare ragazzi, io non l'ho mai sottovalutata, a dir la verità. E qui ragazzi, la minaccia del Giro d'Italia si chiama Richard Carapaz, perché comunque lo scalatore ecuadorenio continua a incantare in questo Giro d'Italia. Tiene la maglia rosa, incrementa su Primoz Roglic di una quarantina di secondi. Carapaz, che oggi arriva nel gruppetto insieme a Nibali. Nibali aveva preso un po' di vantaggio in discesa, poi non è riuscito a mantenerlo e quindi non è riuscito ad arrivare terzo. Arriva terzo Simon Yates e invece indietro arriva Primoz Roglic, che perde una quarantina di secondi da Carapaz e da Nibali. E quindi, in vista dei tapponi alpini della terza settimana, conquistano un importante vantaggio. Quindi, comunque, 40 secondi su Roglic per Vincenzo. Sono ottimi, proprio in vista della terza settimana, dove Vincenzo allora sì che dovrà dare il tutto e per tutto per vincere questo Giro d'Italia. Perché non dimentichiamoci che ci sarà la cronometra a Verona e lì Primoz Roglic può guadagnare ancora. Quindi, insomma, a quel punto Vincenzo dovrà davvero dar tutto nella terza settimana. Soprattutto martedì, che ci sarà un tappone, nonostante che il Gavia non ci sarà a causa neve. Domani, giorno di riposo, ma fatto sta. Ragazzi, accomodatevi sulla poltrona. Accomodatevi sulla poltrona. Accomodatevi sulla poltrona, perché la terza settimana sta cominciando. E le emozioni saranno tante e saranno da vivere. Come ce l'hanno fatto vedere oggi sul Civiglio in discesa, con un Vincenzo Nibali che si è calato come una specie di motociclista. E' veramente fantastico oggi Vincenzo Nibali, perché si vede che comunque la condizione è increscendo e la preparazione è proprio affinata per far bene nella terza settimana. E quindi, forza Vincenzo, proviamo ad andare a conquistare questo Giro. Però in questo momento forse io mi rendo conto che un outsider validissimo, anzi, forse anche quasi il favorito per come si sta comportando in salita. E il favorito assoluto, a parte Primo Shroglic, che è forse leggermente favorito su tutti, il vero favorito, forse si chiama anche Richard Carapazzo. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Ciao sono Valang, se mi piaceva il video e condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Forza Vincenzo Nibali e Ririciraglia, ci vediamo al prossimo video. E comunque ragazzi, anche oggi, pozzo vivo, ma quanto l'ha aiutato Nibali, l'importanza di avere un gregario, sempre e comunque.